ciao ragazze ciao a tutti allora piccolissimo video per mostrarvi una super novità che mi è arrivata proprio ieri a casa mi è stato spedito un pacchettino da sbabam per farvi vedere una novità che è uscita proprio oggi in edicola apro insieme a voi oggi video diverso voglia di rilassarmi un po insieme a voi e spacchettare insomma allora andiamo ad aprire sono un po impedita come sempre ad aprire i pacchetti faccio sempre molti casino ce l'ho fatta allora andiamo a vedere cosa contiene questa scatolina wow allora ci sono delle novità per quanto riguarda i i macaron allora fede impazzirà letteralmente perché lui adora sbabam cioè quando passiamo davanti all'edicola puntualmente non capisce più nulla quindi quando vedrai questo pacchetto so già come finirà ecco qua alcune se non tutte nuove profumazioni perché appunto la prima edizione ha avuto un super successo e quindi hanno ricreato i macaron melmito 2 candy slime ovviamente andremo ad aprirli insieme notare che c'è anche la precisazione che è uno slime e non è commestibile quindi questo promette profumazioni spaziali quindi non vedo l'ora di di aprirlo ragazze quale scelgo guardate quanti colori super wow io direi qualcosa del mio genere tipo un lilla e giallo anche qua c'è dello scotch io vi dico solo che anche riccardo voleva fare questo video con me ma non non ha potuto perché è a lavoro ma anche a lui piace curiosare queste cose apriamo questo qui lilla guardate che carino questi quali conosco perché fede l'aveva già aveva già scelto in edicola appunto la prima edizione quindi sono contentissima per lui principalmente che siano uscite le nuove edizioni super profumato ragazze guardate e poi sono quelli che piacciono a me perché non impiastricciano cioè non sono quegli slime che non si levano più da nessuna parte e si spezza anche fighissimo ragazze super rilassante guardate dentro c'è profuma da morire sembra non so se c'è scritto novità nello slime i mitici dolcetti infatti dentro ci sono tutti i dolcini e volevo capire se c'era scritta la profumazione aspettate che c'è anche il bigliettino ah sì perfetto ecco qui tutte le profumazioni scoperto che c'è anche il librettino all'interno della scatolina quello che ho aperto io lilla e al mirtillo questo qua dovrebbe essere questo lavanda lavanda questo è lavanda è buonissimo infatti mi sembrava l'avevo riconosciuta la lavanda no vabbè non mi stacco più raga non so se riuscirò a ridarlo a fede perché super rilassante ma poi tutti questi dolcetti guardate che carini allora sempre in questo che ho aperto c'è anche giallo giallo è o anguria o limone spero vivamente sia anguria ragazze perché io amo l'anguria mi sa che è limone sì sì è limone decisamente limone però io voglio perché il limone non mi va adesso io voglio aprirne uno vediamo un po gli altri profumi c'è anche rosa e giallo di nuovo quindi mi auguro sia o rosa o fragola quello rosa o anguria e limone speriamo che sia anguria perché io ho proprio un una passione per il profumo il ciclis all'anguria l'anguria stessa ok sto spasciando tutto sono troppo carini questi quali trovate da oggi sabato 12 gennaio in edicola a 2 euro e 99 tutti e due quindi un prezzaccio veramente poco 2 euro e 99 tutti e due con la la rivistina insieme Sì è anguria ragazze sto impazzendo è fighissimo potrei farci un video smr di questo veramente molto molto angurioso e super super rilassante e come mamma vi consiglio decisamente questi rispetto ai classici slime quelli che si appiccicano un po dappertutto perché è come fosse una specie di gelatina vedete sono bellissimi cioè fa un effetto è una sorta di antistress praticamente è rimasto un dolcetto quando fede torna impazzisce ragazze perché lui questi qua li ancora in cameretta sua vediamo l'altro rosa e questo è la rosa infatti buono buono buonissimo anche questo fede alla fine mi regalerà quello lilla e quello rosa perché è diciamo più da femminuccia no quindi come colorazione e quindi magari me lo regala qui c'è azzurro e verde andiamo ad aprire anche questo oggi praticamente sto facendo un video per i più piccolini io amo i bambini potrete immaginarlo visto che ne ho uno di sei anni e sono anche in dolce attesa no non si direbbe vero che amo i bambini qua invece aspettate che non mi ricordo allora azzurro cocco o anice verde o mela o menta io spero vivamente nel cocco perché è l'unico azzurro che mi hanno mandato e mela perché la menta non mi piace proviamo prima con questo no menta però fede piace tantissimo lo slime verde quindi sarà felicissimo cioè è incredibile vediamo se è cocco ragazze incrociamo le dita incrociamo le dita sii è cocco è cocco ragazze aspettate che lo tiro fuori si è appiccicato voilà no che fortuna cocco e anice perché avendo già la menta per fortuna è cocco questo è il mio preferito è buonissimo ragazze cioè questo lo possiamo essendo gelatina lo possiamo anche tagliare guardate che figata bellissimo e poi si riappiccica proprio cioè non c'è modo di romperlo praticamente è proprio una sorta di di gelatina super super rilassante poi più si scalda nelle mani più praticamente si va ad allungare solo che adesso è fredda perché ce l'avevo di là nella scatolina e ho aspettato voi per aprire ce n'è ancora una ma vabbè guarda tutti i pasticcini pasticcini adesso vi faccio ridere ieri sera Federico è arrivato appunto il corriere e io ho cercato di nascondere la scatola perché prima volevo farvi il video e con calma e poi darli a lui e mi fa mamma ma ho visto una cosa con scritto la marca che piace a me quella che ho scritto sbabam ma come mai non è una cosa per me e io ma va Fede cosa dici è solo lo scotch della scatola che poi sarebbe questo qui che lui è riconosciuto subito perché lui adora veramente e cioè vedete che se si scalda e se si fa ovviamente si deve scaldare perché altrimenti si però si va anche ad allungare però si deve scaldare un po' nelle mani perché era fresco era bello fresco e quindi ho detto ma va Fede era solo lo scotch e lui ah peccato poi quando torna gli faccio una mega sorpresa guardate che dico cioè è super rilassante sembra una sorta di specchio del mondo parallelo bellissimo veramente wow poi l'azzurro sembra proprio vetro bellissimo ragazze mi sto innamorando di questi macaron ok e questo qui è il mio super preferito insieme a quello alla menta voilà apriamo l'ultimo insieme rompiamo il scotch allora arancione abbiamo detto che è o pesca o cioccolato io spero vivamente nel cioccolato e poi l'altro lilla che dovrebbe essere a questo punto mirtillo perché l'altro è lavanda vediamo un po' infatti mirtillo sa proprio di caramella hanno fatto bene a scrivere stibile perché vi garantisco che sembra una caramella mi viene voglia di mangiarla questa no Fede non capirà più niente ragazze vi farò sapere poi qual è il suo preferito ma tanto conoscendolo lo so già perché lui è come me ama il cocco quindi il suo preferito sarà questo qua cocco e menta lui ama anche la menta anche quando prendiamo il gelato lui vuole sempre la menta e non so come faccia no invece qua mi è andata male ma non così male perché devo dire che è un profumo molto molto gradevole è rilassante sembra così una candela e sa di pesca buonissimo infatti c'è vedete o pesca o cioccolato buonissimo questa è la pesca forse batte quasi il cocco è veramente veramente wow cioè sembra una caramellona una caramellona gigante diciamo che se avete bambini ho fatto un video principalmente per loro se siete mamme e volete prendere un pensierino ai vostri bambini questo qua è veramente super anche perché vi ripeterò fino alla nausea che io adoro queste cose anti stress che non sporcano tipo quegli slime troppo liquidi non vado pazza per quelli troppo liquidi questo è fantastico è super super rilassante è anche bello fresco d'estate deve essere utile ma anche adesso è molto piacevole mi fa venire fame ragazzi mi fa venire voglia di pesca e non ho pesca in casa non è stagione e potrebbe essere pericoloso per me ok ragazzi questi sono i nuovi melmito macarons slime 2 candy quindi super super profumati delle profumazioni per niente fastidiose super super delicate e sono 12 diverse profumazioni da collezionare quindi ce ne sono tantissime vi ripeto che le trovate in edicola da oggi sabato 12 gennaio a 2,99 euro a scatolina più la rivistina io spero che il video vi sia piaciuto che vi siete rilassate un po' con me abbiamo un po' giocato vi mando un bacione gigante e al prossimo video ciao 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 ciao